Ciao, sono Alberto e oggi vi porto alla scoperta di Vercelli, per meglio dire di questo angolo della città di Vercelli. Questo è il volto dei centori. Perché volto? Beh, dalle volte. Questo era uno di quei vicoli della Vercelli medievale che erano coperti e che servivano per avere dei passaggi durante le lunghe giornate di nebbia, bruma o pioggia che caratterizzavano gli inverni della nostra città. Per i vercellesi questo non è però tanto il volto dei centori, quanto piuttosto la contrada degli spazzacamino. Perché? Perché se il vicolo in epoca medievale venne costruito dai centori, per questo porta ancora il nome, in epoca molto più recente, cioè nel secolo scorso, questo stanzone che si trova dietro la piccola porta alla mia sinistra era lo stanzone riservato dal comune di Vercelli agli spazzacamino che dalle valli ossolane arrivavano in città per pulire i cammini. Bene, questa era una delle tante storie che potrete scoprire su Discovery Alto Piemonte. Continuate a seguirci. Ciao ad Alberto!